Ciao a tutti, cari spettatori di Lady Gossip. Oggi ci addentriamo nel mondo del gossip per esplorare una storia che ha tenuto tutti con il fiato sospeso. Stiamo parlando di Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donnamaria, una coppia che ha catturato l'attenzione durante la loro avventura nella casa del grande fratello nella scorsa edizione. Ma cosa è successo dopo quelle telecamere? Dopo mesi di alti e bassi, litigi e scintille, la loro relazione sembra essere giunta al termine. Oggi, i «donnalisi» sono solo un ricordo per i fan che li hanno sostenuti e tifato per loro, tuttavia, sembra che l'ex fidanzato di Antonella, Edoardo, non riesca proprio a togliersi lei dalla testa, tanto da compiere gesti che non passano inosservati. Nel frattempo, Antonella Fiordelisi ha affrontato momenti difficili dopo la separazione da Edoardo. Tuttavia, ha perseverato nel suo cammino professionale, lavorando su progetti importanti. Ma il ritorno di Edoardo sotto i riflettori non è passato inosservato. Cosa è successo? Prima di scoprirlo iscrivetevi al canale e attivate la campanella. L'ex Geffina ha recentemente concluso una campagna pubblicitaria per Shane, apparendo sui social e sul sito. Edoardo sembra aver reagito con una punta di gelosia, addirittura lasciando like a post che criticavano l'azienda. Ha condiviso un messaggio su Twitter che riflette sulla positività e l'odio nel mondo. Ma c'è di più. Ci sono indiscrezioni sui social riguardo a un presunto flirt tra Antonella e il calciatore Samuele Ricci. Sembra che si vedano spesso negli stessi posti, alimentando ulteriori pettegolezzi. Antonella sta vivendo uno dei periodi più intensi della sua vita professionale, con una serie di progetti realizzati e in cantiere dopo l'esperienza al grande fratello VIP. Ha recentemente partecipato a Venezia 80, dove ha condiviso dettagli sulla sua vita pubblica e privata. In merito alla sua vita sentimentale, Antonella ha rivelato che ogni uscita con un amico scatena voci e articoli su un presunto fidanzato. La vita privata al centro del gossip è diventata una costante, ma sembra che Antonella stia cercando di adattarsi a questa nuova realtà. Inoltre, Antonella ha raccontato come la sua relazione con il pubblico sia cambiata dopo il reality, e come molte persone si siano identificate con lei. Nessun segreto, tutto di sé è stato esposto, creando un legame unico con i suoi sostenitori. E per chiudere in bellezza, diamo un'occhiata al suo stile sul red carpet, un elegante vestito di raso verde acqua che ha aggiunto ulteriore bellezza alla nostra protagonista. Non perdetevi questo affascinante viaggio nel mondo del gossip su Lady Gossip. Continuate a seguirci per tutte le ultime novità.